Gli aggiornamenti di Terre, Sapori e Vini, Terra Veneta, la provincia di Treviso, siamo tornati nella zona di Valdobbiadene e ci troviamo a Santo Stefano di Valdobbiadene, Enrico e Silvio Miotto dell'azienda agricola Vigneto Veccio. Inizio con papà, Enrico, per ovvi motivi. Vigneto Veccio, perché Veccio? Perché cosa c'è di Veccio qui? Perché un nostro vigneto, qua dietro la casa, si chiamava così già dai tempi remoti. E allora abbiamo mantenuto il nome? Abbiamo mantenuto il nome. Fammi capire, già il nonno curava la vita? Sì, il nonno Silvio nel 1947 è stato riconosciuto con un diploma di primo grado per il vino da focaccia che produceva in un determinato vigneto, in una collina là. Ancora adesso, selezionando quelle uve là, produciamo un millesimato dry che ultimamente poi ci ha dato una soddisfazione enorme. E' stato premiato la primavera del Prosecco con la targa d'oro, motivo per cui ancora a quel tempo quel vigneto là era così famoso e attualmente conferma la sua validità e la sua qualità. Hai visto, dal 1947 arriviamo però giustamente ai giorni nostri. Beh, qui si produce del buon vino, mi pare tutta uva glera, vero? Tutta uva glera, sì, tutta uva glera, sì, principalmente. Allora, quante bottiglie più o meno producete? Ma noi facciamo circa 50.000 bottiglie, quindi siamo un'azienda a conduzione familiare e ci teniamo a questa cosa, insomma. Papà ha citato una menzione, una medaglia d'oro, ma so che ultimamente avete avuto ben tre menzioni sui tre spumanti che fate. Esatto, sì, abbiamo preso una targa d'argento per il Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut, una targa d'argento anche per il Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Extra Dry e poi l'oro. per completare la gamma. Ecco, ma per completare ancora meglio la loro vita, la loro azienda agricola, poi si è pensato anche alla ristorazione e alla ricezione turistica, perché qui, come dite voi, come si dice qua, se magna, voglio dire, è anche bene. Bisogna pur accompagnare un bicchiere di vino con un prodotto tipico. e già 24 anni fa, nel primo maggio del 1993, abbiamo pensato di incrementare un po' il reddito, diciamo, aggiungendo all'azienda agricola la ristorazione. dieci anni dopo abbiamo costruito le camere sul vecchio finile, tratte del vecchio finile, e offriamo ai nostri ospiti, oltre a un buon bicchiere di vino, degli ottimi prodotti che produciamo in casa, per esempio la soppressa veneta che conosciamo. Poi ho visto i primi piatti, la carne allo spiedo. Sì, è un po' tutto, cerchiamo di fare proprio del nostro meglio. Ecco, tra le altre cose, io ho curiosato un po', perché mi sono permesso di giracchiare. Ho visto gli animali, ho visto l'orto sopra la cantina, perciò i prodotti che servite a tavola sono cose vostre. Esatto, sì. Per noi la cosa fondamentale, quello che è agriturismo, è proprio questo. Insomma, la materia prima deve essere prodotta da noi, seguita da noi, anche perché appunto offriamo ai nostri clienti prodotti di prima qualità. Allora, senti, velocemente chiudiamo in bellezza. Quando siete aperti? Siamo aperti nei fini settimana, come la ristorazione, venerdì, sabato e domenica, le camere tutto l'anno e anche la cantina. Per quando volete venire a assaggiare un bicchiere di vino, siamo sempre qui. Allora, Santo Stefano di Valdo Biadene, gli aggiornamenti di Terra e Sapori Vini, quest'oggi con Vigneto Vecio. Allora, Santo Stefano di Valdo Biadene, gli aggiornamenti di Terra e Sapori Vini, allora, Santo Stefano di Valdo Biadene, gli aggiornamenti di Terra e Sapori Vini, ess PIERNE!